Vi do due minuti di un oratore speciale, l'uomo dei ovi. Damiano, vieni qua. Accogliamo un applauso a Damiano. Ecco il volto del piccolo donatore di uova giunte qualche settimana fa con tanto di incubatrice nella sede della protezione civile a Marghera. Un pulcino delle mie uova, ne ho donate 24, sperando che qualcuna si schiuda. Ho donato una padovana, 6 uova di olandese nana e tutto il resto sono uvaiole. Damiano, di Villa del Conte, nell'Alta Padovana, ha 12 anni e ha scoperto questa passione tre anni fa quando ha comprato una gallina. Damiano, come fai a riconoscerle? Hai studiato, ti sei preso dei libri? No, seguendo YouTube e consigli di esperti, sì, le riesco a riconoscere facilmente, ecco. Poi anche vedendo io dei segni, l'impio sulla padovana, il maschio, già dal primo giorno ho capito se era un maschio o una femmina. Quindi da un pulcinotto di due mesi. Una passione che richiede molto impegno, come racconta la mamma. Al di là dell'aspetto economico, è anche faticosa, nel senso se piove, se fa freddo, se bisogna... Fa tutto lui, sì, perché io e mio marito facciamo dell'altro, sì, sì, sì. Mio marito parte la mattina da mia casa, la sera, io lavoro e poi c'è da pulire, quindi è una fatica anche fisica, insomma, non da poco. Ti sei emozionato ad essere stato invitato qui dal presidente? Di solito lo vedi, non so, in televisione, su YouTube? Sì, sì, mi sono emozionato, sì, non pensavo proprio che andavo in tv, ecco. E dopo l'emozione, i complimenti per come sono stati accuditi i pulcini, che ancora è da decidere dove andranno. Sono stati bravi, sì, hanno fatto tutto quello che gli ho detto, messo la temperatura a 37,4, riempito la seconda vaschetta, sì, hanno fatto un buon lavoro.